io subito di questo nuovo video compagnia di presenti sono so lo sanno chi sono non si tratta fattelo dire con la fine in che del mondo la chiunque iphone dopo 5 minuti che viene acceso gli altri sono diamanti devo passare un pochino la musica di minecraft ok ponte dove il ponte è davanti a noi puoi andare dritto vai dritto vai dritto andiamo tanto sai che non gli possiamo distruggere il letto davanti ok patata pensare che ok ma come abbiamo già perso il letto ma quando come come avessi il letto 4 kg quando sono rosa i gatti sostegno c'è colpa guarda ma chi li ha vissuto boh non so dirti poi chi ha fatto il collegamento in bianchi hanno fatto il collegamento no è strano perché non hanno fatto altri collegamenti ma no sono caduto e mi ha chiamato la carta e sto soltanto mi ha postato un blocco indietro no vabbè faccio qui questo tg ti vediamo al centro quanti blocchi c'è scusami 64 64 di ferro è ok christian per favore torna subito vai subito al centro per chiesto da sono e i materiali riuscire di tutti i ragazzi lo so grazie ho 3 diamanti non c'è un certo smelassi per ok 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 scuola l'armatura per cui e niente stiamo sei e se ci sono 5 non c'è a 2 arco cos'è non sono morto sicuramente da boh quando vuoi posso andare ma magari mi prenderei anche un'armatura a qualcosa dai uno di cose mi servo ecco tengo il piccone e lascio quindi anche io ti direi andiamo dei gialli o del blu aspetta però anzi no aspetta un secondo fermati un attimo aspetta la musica di minecraft questo grazie possiamo andare? si mamma mia se cadevi bestemmiamo tutti abbiamo praticamente trasverato perchè ne ha sponato uno forse due lascia ilo poi due qualche parte si no li ho presi dico allora il blu c'è nel letto ancora andiamo dai blu infatti eccolo qua no no ah non tengo nel letto si che c'è nel letto blu no sono i gialli questi e ne da me su ma sei andato da team diverso scusami mi stanno lasciando in poce questi coslo 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 coso coso coslo coslo cosdo cos Devo Bello 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 mi piace mi serve dopo 13 questi qua sono versorchi stecken in questi qua sono questi stecchini mi sto facciano un pochino di blocchi dove stai? in base del blu Sì, se li vanno Base, base di blu Aspetta In blu Tu l'hai fatta? Sì Guarda, è lentissimo Cristiano pingato a zero di ping Che vengono interrotti La team blu, cavolo stai Eccolo qui Cristiano bisogno che accoste c'è tipo subito Via, qui, via, via Gianni, Gianni che ti stanno fai tanto Ma sono tre, eh, Smeraldi Io ho sei diamanti, tutto questo Se mi dai atto frecce, quelli ce li facciamo i verdi Eh, non ne tengo Quanti diamanti abbiamo? Eh, zero Ho fatto prima la armatura però Ok, ne ho sei Mi prendo la forza Mi prendo forza e due Vai, mettiamoci l'ossidio Abbiamo già otto diamanti Smeraldi, vabbè Eh, no, ne tengo set Cioè, veramente per uno? Che non l'ho preso Ah, io vado a prendere intanto ho suonato prima quindi Eh, Cristiano, vabbiamo sotto dai verdis Aspetta, prendo uno Smeraldi almeno Vai da sti caspe, diverti Ce n'è uno qua, ce n'è uno da me Si è messo GNT, si è messo GNT Ma dai, ma il gioco del cavolo Vieni Sono andato, questa è che non ci bussano No, io sto facendo Stanno bussando Sto giurirlo Ti avevo detto io, scusami No, brutto infame che non sia altro Ma dai Buona, scadera Sbaglio o avevo detto il cibusciano? No, l'hai detto, sì, lo so Guardi Ce l'abbiamo fatta Due di oro mi serve, almeno un po' lo full Che si ripuscia Sono impregato Questo facciamone così, questo di qua Questo non ho mai capito che cavolo serve Gli Smeraldi stanno qua dentro, ma sì Facciamo però il team verde Abbiamo un localizzatore del team verde Ah, va bene Quanti di amanti abbiamo, piuttosto? Io ne devo tre a casa, a totale cinque Ok Io ne ho altre tre, quindi siamo a otto Ci possiamo fare l'armatura Ecco, c'è uno che ci sta attaccando, Cristian Ah, ci sono Ponte No, 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 no Non l'avete capito un cavolo Ma tu vattene lì Siamo senza letto, li vai ad attaccare Così, vieni qua Così Ah, è spaventato, mo Di misericordia, una delle mie spalle Oh, Cristian Ho otto frecce di numero Andamocene Mi sa che ha preso a fare fuoco Eh, vabbè Niente, io mi quando faccio Ti fai, vabbè Cioè, ne sono già prese Eh, diamanti quanti ne hai? Eh, uno, l'avevo lasciato in base Avevo lasciato in base a altri Vabbè, prendi questi cinque E andiamo Anzi, no, non andavo un po' Dai, mettiti a fare qualcosa Se vuoi nel accesso Io tengo una stack e venti due Di ferro Sei stato tu qua parli fuoco? No, è solo lui Mamma, che fastidio Vai, ponte, ragazzi Così Fortissimo Vuoi scrivere in chat che è fortissimo al fuori No, no, non mi bannano Che ho fatto per essere bannato, scusa Qui ne abbiamo solo i verdi Cosa vive? No, verdi e grigi No, no, siamo noi contro i verdi, perfetto Aspettiamo che le distruggono le leggi Eh, l'unica cosa Eh Basta, sei diamanti in totale Abbiamo E basta così Basta così Ti prendo un pochino di blocco Perché, certamente, sta finita Abbiamo vinto No Prende il volo No Cristian, andiamocene in base nostra, subito 5 secondi e 3, 2, 1 Quanti diamanti hai? 1 E poi Perfetto Quelli di prima 7 Perché prima ne avevo 6 7 Quelle facciamo? Che facciamo? Io mi sono fatto l'armatura adesso L'armatura a 3 Dragon buff Ok Ho 3 diamanti io ancora Io 2 Se ne vogliamo soffrire Sai che ti dico? Io prendo L'armatura a 3 Sì, fai bene Fai bene Poi, piuttosto, prendi qualche palla di fuoco Poi, se riesci 5 secondi Sì, alle secondi Facciamo così Ecco, non ho preso troppo Niente, io vi faccio la viola Dai, non tengo abbastanza ferro 36 Devo potenziare la forza Vai, altri sei, vai Io ti ho preso a caso E beh, qualcuno implodo Ah, sei tu, mamma mia Quanti Quanti ne hai? No Sei stato tu a buttarmi i diamanti? Sì, sì Ok Grande Perfetto Adesso ci dobbiamo fare subito Il matura in diamanti Ucce 2 Ender per la manetta Abbiamo Gli sfratti Gli sfratti Stavate dei Sfratti Tu te la sei fatta? Sì Ottimo Allora Le palla di fuoco Stanno qui Te ne do Lasciamo un pochino di ferro Così almeno Dovrendo cura L'iron Golem Ecco Sì, ho finito Ho due smeraldi Io Ok Le palla di fuoco Le prendo io Sì, sì Un pochino di diamanti Iron Golem G Defender Vai, preso Ok 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 Christian C'è uno Alla base Di blu Alla base Di blu Ok Ci puoi fare La spadella Di avanti Non l'ho visto Dove sta? È in base nostra Ah, mamma mia Ma non c'eri tu in base Ma caspita Dimmi che c'erano in base Ma tu sempre in base Stavi Sì Ma sopra Eh vabbè Ciao a tutti Alla base Ciao a tutti Grazie a tutti.